Si sa quando si comincia, cioè oggi, ma non quando e forse addirittura se finirà la discussione dell'Aula di Montecitorio a proposito del DDL sul suicidio assistito. Ancora forti le divisioni tra gli schieramenti parlamentari su un testo che dovrebbe stabilire chi e come dovrebbe aver accesso all'assistenza del sistema sanitario nazionale per porre fine alla propria vita. Il progetto di legge in esame, già approvato dalle commissioni giustizia e affari sociali della Camera, ricalca in gran parte una sentenza della Corte Costituzionale. Nel 2019 la consulta era intervenuta sulla morte di Fabiano Antoniani, alias DJ Fabo, stabilendo che non è legalmente perseguibile chi aiuta una persona a morire se quella persona ha una patologia irreversibile, se la patologia provoca sofferenze fisiche o anche psicologiche intollerabili, se la persona è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente e se è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. L'interessato dovrebbe farne richiesta e il medico che la riceve inserirebbe il paziente in un percorso obbligatorio di cure palliative che, per arrivare al suicidio assistito, a un certo punto il paziente deve rifiutare. Quindi il medico che ha ricevuto la richiesta dovrebbe fare un rapporto sulle condizioni e le motivazioni della richiedente e inviarlo al Comitato Etico Territoriale per una valutazione. Infine ci sarebbe la visita di uno psicologo per accertare nuovamente la volontà dell'aspirante suicida. È prevista per il personale medico la possibilità dell'obiezione di coscienza. Difficile immaginare su un tema tanto delicato un voto a breve da parte della Camera. Probabile che se ne riparli dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, quando però nuovi scenari potrebbero anche portare alla fine della legislatura.